Il sole è la fonte di tutta l'energia. Il pianeta e la luna giocano un ruolo, ma la cosa più importante è il sole. Se i raggi del sole non cadono su questo pianeta, non c'è possibilità di vita. È finita. Quindi questo sole non è solo una questione di luce. Ogni momento la tua vita viene mantenuta grazie al sole. L'influenza del pianeta e della luna è decisamente presente, ma la quantità di influenza del sole sulla vita è grandissima. Quindi abbiamo deciso di fare una cosa. Essere in sintonia con esso. Se sei in sintonia con esso, con i cicli del sole, allora salute fisica, benessere, vitalità, energia. Non devi preoccuparti di queste cose. Sono semplicemente lì per te. I cicli del sole avvengono ogni 12 anni e un quarto, 12 anni e mezzo. Il ciclo della luna avviene in 28 giorni. Un corpo femminile è allineato con la luna. È per questo che siamo nati. È grazie a questo che siamo qui. Questo è vero ad un livello. Ma che tu sia uomo o donna, il contributo del sole e l'influenza del sole sul tuo sistema fisico è fenomenale. Senza di esso nessuno può. Il calore stesso del nostro corpo, che è un segno di vita, è solo grazie al sole. Quindi, come entrare in sintonia con esso? Affinché i tuoi cicli avvengano in cicli di 12 anni, non di meno. Se i tuoi cicli avvengono, se i tuoi cicli fisiologici avvengono in sintonia con i cicli del sole, la tua salute fisica sarà ottima, il tuo equilibrio mentale sarà perfetto e la tua vita avverrà senza sforzo. Questa è la base di ogni sadhana spirituale, che è di natura fisica. Così che tu entri in sintonia con i cicli della natura. La tua esistenza qui non è libera dai cicli di ciò che accade nelle condizioni naturali. Surya Kriya significa agire, sai, attivare il sole dentro di te. Perché c'è un sole dentro di te. Altrimenti non saresti in grado di mantenere questa temperatura, non è vero? Se non puoi mantenere la tua temperatura corporea, sei morto. Vedi, puoi far sì che questo corpo sia la chiave per l'esistenza o puoi far sì che questo corpo sia un ostacolo nella tua vita. Se lasci questo corpo ai suoi modi compulsivi, vivrà una vita semplice, mangiando, dormendo, riproducendosi. Questo di per sé è già una gran cosa per molte persone, perché nient'altro è stato esplorato. La vita accade in moltissime dimensioni. Sta accadendo tutto il tempo, ma non nell'esperienza della maggioranza delle persone, purtroppo. La vita è così in questo momento. Viene percepita solo una dimensione. Sembra che vada bene. Solo quando vedi l'altra, ti rendi conto di cosa ti perdevi, non è vero? Surya Kriya è un sistema potente in quella direzione. In particolare, per il proprio equilibrio fisiologico e psicologico. Perché questo equilibrio è così importante? L'equilibrio è molto importante. Suppone di andare in bicicletta. Qualcuno va ancora in bicicletta? Ok, stai andando in bicicletta. Se non hai un equilibrio corretto, questa in sé è la cosa più eccezionale al mondo che stai facendo. Ma una volta che il tuo equilibrio è molto buono, puoi guardarti intorno, puoi mandare sms, puoi mandare un bacio, puoi fare qualunque cosa vuoi, puoi togliere le mani, puoi avventurarti nella vita. Perché hai equilibrio. Se non hai equilibrio, questa è l'unica cosa che farai. Andare in bicicletta in sé è una gran cosa. Al momento la vita è diventata così per la maggioranza delle persone. Guadagnarsi da vivere in sé è una gran cosa. Rimanere sani di mente, mantenere la tua sanità mentale è una gran cosa in sé. Essere pacifici in sé è una gran cosa. Avventurarsi nella vita è fuori discussione. Ma se sei pacifico e gioioso, e c'è molto equilibrio, non importa cosa accade e così casarai, ti avventurerai in molte cose, non è vero? Proverai molte cose. Cercherai di esplorare tutti gli aspetti della vita. Ogni porta possibile vorrai aprirla e vedere cosa c'è lì. Ma se questo di per sé è una grande impresa, non ti metterai a fare nulla. Se non mi metto nei guai, è sufficiente. Molte persone sono arrivate a questo livello di... pensionamento. Non dovresti ritirarti quando sei vivo. Ti ritiri quando sei morto. Potresti cambiare la tua attività, da andare in ufficio a qualcos'altro. Ma come puoi ritirarti quando sei vivo? Ti sei ritirato significa che sei morto, non è vero? Puoi lasciare il tuo ufficio e fare qualcos'altro. Questo va bene. Grazie a tutti.